ma non aveva, non aveva ma mettete burma dai almeno burma ce l'hai burma? no io mi metto lo vecchio non ce l'hai burma? no c'è queste merda world virus mamma mia come fai a una ragazza di burma? scusami a me non c'è manco grado come non ce l'ho presa sono pezzi si vanno giusti mettiti del biscotto non ce l'hai burma? scusami questa no, so vender vabbè me la metto io me la metto io vai io mi faccio l'uomo allora anzi no, questa non mi piace ci sta il vecchio ciao Alea il vecchio di Dragon Ball ci sta no, non c'è non metto non metto ci sono il signor Mutand non metto 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 no, non metto vabbè dai andiamo aspetta mi rifiuto io allora qua sono Iron Man non mi arriva nessuna richiesta c'è questa richiesta ma non penso sia tu è richiesta di Amazon ok ci siamo ci siamo ci siamo a te piace il sushi Sara no pizza signor Matteo pizza se mi permetto già il cinese si sushi ti piacciono i cinesi? non ho capito no no aspetta aspetta piccolo misunderstand ma che cambia tra cinese e sushi cambia una cinese uno è già lingua la lingua la lingua il cinese te lo fai il sushi non mangi no ma che ringrazia che cosa di che ti devo ringraziare parla a Matteo in questo ma grazie non ho vista quanti specta in questo istante non mi interessano i numeri scusate nemmeno andate la richiesta però mi piace una brutta domanda comunque da chiedere da un personaggio famoso signor agente non mi interessano i numeri devo essere sincero scusami grazie ma io questo domanda mi aspettavo perciò l'ho fatta ma che domanda avete fatto raga no che quanti specta avevo non mi interessano non vado a rome con quanto cazzo forte i tuori dipenso 3 4 500 3 4 5 si non riguardo mai mosca le due allora andiamo andiamo pronto quando è brutta ta skin mamma mia ma ecco le build o senza build che cazzo è qua dove sto no è bugato tranquillo ah è bugato signor mattei dove vuole andare allora se faccio più di 10 kill addirittura non faccio niente allora andiamo qui qua va bene va bene va bene va bene va bene va bene va andiamo qua andiamo là andiamo là faccio più di 10 kill e mi fai vedere il tuo cane merda ma quello te lo fa ah va bene non ti ricorderei come mi chiamo però ti ricordavi del cane si 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 cagnolina o cagnolina femmina 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 amore mappina finisce te lo faccio vedere allora andiamo a vedere 10 kill ragazzi ci si può beh no fatele berti mi raccomando sono il peggior peggior giocatore di fortuna età della storia no peggiore no 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 ce lo so io il più simpatico diciamo ma simpatico più o meno quando gioco a fortuna più o meno più o meno come vi ignoro che cosa avete scritto non ha visto ma che ignori gioca gioca l'ignoro l'ignoro ma te non ci credo il boss mi sta sparando ti devo guardare eh raga me lo guardo non so c'è un boss qua ecco il giu ah c'è qualcuno no 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 il boss signor tutti i boss tutti i boss mettiamo il boss mettiamo il boss allora vai eh io prima metto dovevo un'arma ma che diamo bene ma che cosa è di via via oh dove cazzo ma c'è qualcuno sento qualcuno di esterno tranquillo tranquillo sicuri andiamo a capo 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 mi resta ma no lo vedete ho capito adesso devo guardarlo io a me oddio vengono guarda a me sta parlando con il ma che stai guarda la madonna ciao becchissima ma vai il sciopone il sciopone no grazie grazie allora io non sono un streamer no anche sei in pratica no non sono un streamer vi faccio finta in pratica vi spiego io gioco devi essere 5 devi essere 5 l'unico modo io c'ho solo un assalto vabbè l'unico modo per streamare con la web è averla sullo schermo quindi io metà schermo non lo vedo non ho capito come non hai capito se streami da play devi per forza avere la web sullo schermo webcam ce l'hai tipo una volta di giro si si è vero si si c'è il coso preimpostato per forza lo so e ogni tanto guardo sembra che si guarda la madonna c'è ragione chi c'è andiamo a rotaio 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 dove sono i rotaio sul treno arrivo è vinto l'arma ma quanto è grande la dv abbastanza auguri di che? ma che scada video hai? no ma stai ah no scusami c'hai da play c'hai da play scusa ringugnionito ci staglia troppo andiamo a rotaio ragazzi va bene ah c'è Kiru c'è lì è vero andiamo 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 vengo in macchina con lei signor Matteo andiamo si si aspetta vado a prendere gli altri eh se riesco è andata la macchina da due non può essere più di due eh Kiro non è fa molto svegliare e dove andiamo? il punto? là? pink blue si si ok pink blue vado ok vado 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 pure niente cazzo no comunque questa cosa è demone non ti preoccupi non ti preoccupi non ti preoccupi niente da qua non va oh chi è? eccetta un onore vado a sinistra destra 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 rumori destra rumori ok è il medaglione sinistra 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 medaglione dovrebbe pink blue medaglione no stenda stenda scendata la macchina no non credo dai ottimo parcheggio ah ma il medaglione sono pezzone eh signor ma tanto starà là tranquillo tranquillo va tutto bene no è giuseppino non credo mi fido di lei mi fido di lei proviamo dai bella figura del merda vengo qua vai non ti preoccupi non fatevi tutti niente sono che a strada gente eh non hanno visto no giuseppe che fisi ma che tutti i scazzi tutti i scazzi va a casa guarda mia che botta di merda oh aladro aladro duro duro raga non sto capendo nulla stiamo scappando chef big grazie mille della sabba grazie tre sabbi due mesi grazie curiamo curiamo ragazzi stiamo scappando troppo si 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 troppo no no non è che bluffato hai fatto hai fatto aiuto arriva 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 sotto le scale non mi ha una mano qua eh ci rimango ci rimango ma vieni apriamo siamo grazie grazie sarà dagli due medaglioni che così sicura lo schild ah si già dovete fatto lo schild è purtroppo vabbè 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 c'è voi siete ma a voglia questa è una merda la bomba niente non gio nemmeno un cecchino stavattina che schifo allora questo lo leviamo non c'è un cecchino qui eh no prima erano erano fissi diciamo no no meglio così ma come è meglio dici di no no io sento perché non vivo ma che bannare chi luccia no no ma che ci sta provando eh vi partendo eh vabbè non faccio queste cose sti cazzi ma che luce è piena di no porco ciao lo conosci bene il blu di umidagioni di luce non dire così mamma mia è quello di prima è quello di prima è quello di prima ah no come ma ma che abbiamo noi ma non era ma che è raga sì ma vabbè 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 tornava quello a prendere le schede io ce l'è rimasta qua e poi le ripusciamo è un problema comunque che hanno tolto le cose buone vabbè io ce l'è rimasta qua Matteo è un uomo meraviglioso spasatelo a la scappata non vabbè 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 ecco lì c'è uno davanti rega 1 2 3 vabbè 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 ma come cazzo ero la guisi vabbè 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 io non ho rubato niente voi mi avete rubato a voi c'ho una leva a testimoniarla morto un altro e chi è che mi ha rubato una kill? io non ho sperato non ho sperato ho una kill matrimonio a casa una kill sola vabbè vabbè non fa niente vabbè 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 l'importante è b Matteo eh che ha detto che ha detto che sei un uomo meraviglioso da sposare sì sì è vero confermo confermo ho ben nato vera niente sarebbe un bivido essere un biviso è qua ragazzi è andato passi 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 oh si è svegliato il cane si è svegliato il cane ci è svegliato il cane c'era lo cartellone del merda ci stava vai vai mannaggia lo cartellone terra di terra non si preoccupa e stanno lontano gli altri da fare cuore 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 copri copi 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 ecco la storia ma quelli qua no no e per botte tutti i voti di me giustamente o che vuoi ancora non è però no il cliente o che sta sotto è stata la testa sotto ma quanta gente regala me sa che sarà attira tutti mamma sto botte di merda non muore a bene fa dalla versione fa dico a cristo no questo è buono va bene va bene rientro ma quando è tirato fa di qua l'ultima sta di qua il ventaglione eccolo sotto sta qua tramite che non era lo stesso qualcuno ha shield io io dove stai dove stai tu stai no i shieldini i shieldoni sono qua ma stai a occhio eh va bene felì è stato dentro il problema che sta lì dentro dietro porca puttana dietro no 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 come da dietro e da dietro ma perché ce l'hanno con me perché questo è quelli che abbiamo chiuso prima 12 ma non hanno armi portamoli è sì questo è il volo però che a destra raga un volo maggiore maggiore non è la zucca perché non capisco attraverà un'andata una staglia di varia io lo vedo lo vedo è sta arrivando sta arrivando da lì non è tanto visto questa dov'è ma nel tanto non che ma dopo dopo è peccinata porca te quella troia ma che te è uno arrivo sono morto ragazzi guarda il volo mio attenzione ma che cazzo è qua arriva 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 non so dove però eccolo eccolo ma lei non si aspetta che siamo in treno mi sono sparando mi sono sparando da dove da dietro da io non ti ho sperato io è mazzato uno mazzato due non metti attorno il lobby ok ma che quasi è svegliata la vede vai 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 fammela vede fammela vede a tanti non piace questo cane a viso come che bellino che bellina è un hobbit bella mi piace troppo ma c'è tre mesi chi sei mamma bellissima pensa ma a te pesa 500 grammi vabbè ancora piccolina trema tutta trema mamma l'hai chiamato poragno che c'è un chihuahua che razza è questo è il primo cane di razza che io abbia mai preso io l'ho sempre trovati vero è stata fortunata lei bellissimo dai qua dai qua e come mai proprio un chihuahua perché io prima di questo c'era un cagnolino che era un incrocio di voi da un chihuahua e un volpino sempre trovato così e non lo so mi è morto quel cane un mesetto fa e dovevo prendere un altro per forza cioè sono stata riuscita a stare una notte senza cani in casa ma mi ha da piangere sono sincera ma non madonna quanti anni aveva 11 era giovane l'altime sono c'è giovane vabbè non eravamo anche troppo anziano i gattini invece? a me mi morivano sempre sui 16 anni 17 che hai detto? i gattini invece non ti piacciono? i gattini ce li avevo ma ce li ho portati a casa a mio fratello li ho portati via belli no non ce l'ho non lo ho impostato ing e il porcelino d'india c'è il pappagallo ma te la sei fa la griscia almeno? eh si direi di si ok ok però non abbiamo sto argomento ti prego no 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 assolutamente assolutamente no ma no no ero giusto per chiedere così era una domanda mi stai studiando dire no 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 va bene e bene e bene e bene che non c'è più oddio abbastanza anziano era 11 anni 11 anni iniziasse abbastanza prove capisco che magari insomma ti manca quindi dopo che è morto lui hai preso hai preso ne preso un altro ne preso è sì non c'ho fatto perché il canile comunque pure che ti conoscono ci vuole sempre tempo ci vuole tanto tempo al canile invece lei ho preso l'hai comprata sì anch'io mi sono un po pentita però l'amo troppo perché al canile l'ho sempre trovato io ho preso al canile ti ho detto questo è il primo cane io compro però mi sono innamorata l'ho vista mi sono innamorata che devo fare ma è bellissimo io avevo un bigolo invece che anche quello lo viva le sottestardi è abbastanza complicato infatti dopo l'ho affidato una famiglia che insomma io non ce la facevo non ce la facevo proprio a quelli che hanno bisogno di tanto tanta pazienza si decorre su cani da caccia quelli si si devono vedono fa ma anche quello che ha preso di e non è tanto tanto più facile sì sì io non vedo l'ora di far secondo vaccino così la porta a gioca meno adesso ecco perché vaccino perché i cani quando sono qui ci devono fai primi tre bacini il primo vaccino non possono ancora uscire già dal secondo dopo una settimana alla vostra inizio a sci bellissimo comunque mi piace veramente troppo il tuo cane che mi piace troppo la tua cagnolina come si è messa di dietro però mi deve sta appiccicata no non sono fidanzata le sgossi ok ok andiamo 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 carico il mio maschio questa dobbiamo vincerla è carini ma oggi sono stata un po schiegata hanno vinto davvero poche poche arrivo io vabbè una prima l'abbiamo vinta però fino a prima ci hanno saltato in quattro poi si non sono a cima però conoscete pizza 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 io ho un problema conosco davvero pochi pochi streamer pochissimi tiktoker invece li conosci tutti tutti tiktoker è già un po di più no non c'è la vista che ce l'avano ancora non voglio dare ma da quando è scaricato no scaricato avevo già da un sacco di tempo ma non l'ho mai cagato ce l'avevo disinstallato dal telefono poi ho ripreso l'account mi sono incastrato e mi sono facciate play e a fine aprile però non ci ho giocato per un mese e ho iniziato a giocare a maggio poi ho saltato un altro mese gli stessate intendo e la canzone e la canzone e le live la stalle davanti no 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 ma questi mi aiutano pure del suo botte dei bastardi così che lo dico il video ieri che ma che cazzo che dimmi 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 ma te la brutta notizia morta 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 è brutta notizia dimmi dimmi scura ma sta cura è che io fumo messa l'indicazione ti piace no non è vero vabbè dipende come il mio marijuana no no e allora poi la sigaretta elettronica diciamo la gloria non è una sigaretta le canne già insomma quelle non no niente canne mi dissocio da quello che dice matteo ma sarebbe un brutto gioco però cavolo 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 erano tutti i botti a costruire non ce n'era uno che sapeva fare una scala bello no no tenga 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 grazie ho io l'ultima ma trovo la fame la dente basta chiedere basta chiedere grazie mille grazie gentilissimo un po' di cioccolata no no che sto fa proprio ma ho amata umari che quando ero più piccolino come la fine anna si chiede di termina la qualità di una vera guarda anche la marijuana l'importante cioè a me non me ne frega niente la marijuana se una fuma non fuma l'importante che non si fa le altre droghe tipo cocaina ti sembri tipo stavo quasi parte no 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 per carità però si è sincera fumato poi sentita male male ma chi mossa sì sì detto ma chi mossa fa m m venuta l'ansia da chi cardia ha fatto un'esperienza del periodo no ma io per un periodo c'era un bel periodo fumato mese una fuma o meno ma non fumo dal 2019 dal covip il 2019 avevo 19 anni era più piccolino e stupido perché era stupido ma pure le sigarette che fa perché c'era dopo la filietta con quelli più grandi cretina quando si piccola di cretina gente c'è gente arrivo ma doveva da batta da batta ma sarà questo non è un boccato come no no è esploso è morto subito brava tanto un basta a me ma che banno è uscito il nome mi so che sarà stai e verso roma centro io comunque non ho mai fumato e mai bevuto neanche un goccio d'acqua sono un difetto quando sto triste quando men cazzo quello che è di roma magni troppo fa bene fa bene io invece c'è un po di problemi con il cibo non riesco a avere orari come addirittura e no nel senso se sì è vero si è rimasta fino alle 9 le otto eh sì mi sono svega da tardissimo mi sono svega tipo alle due dammi il numero che lo mando a Matteo dai mi dimentico alle 9 anche ruccia questa no non è certo è stato Cassino c'abbiamo Cassino che stava a dir? è tipo a Napoli no Cassino è quello che ha scritto questa cosa non è a Napoli Cassino no dov'è? Cassino che taglia Cassino eccolo arrivano 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 ti sento ti sento vai 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 123 è scappato fatto come ha fatto 12 come funziona il cecchino che io la prima volta che l'uomo a stai che mi non sai che vede che mi non è stato vabbè ma c'è quello quattro per quattro per ma c'è una persona così profonda che l'interesse delle sigarette riguarda il tuo animo sensibile è la tua anima e gemella firmato ieri dove è andato questo non mi ha cagato io mi ha cagato è morto ma l'avete fatto ammazzato come stato io ma se ci abbiamo due kill e si mai detto che nemmeno ammazzato in finale che ammazzato ma io pure come fai ma do quante porte un po di profondità e non vivo da sola io sto con mamma e basta meglio 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 credere i tuoi spazi le due cose sì no penso cioè casa grande tranquillo ma infatti ma delle donne è andato 170 metri quali per due persone ma più che bene cioè due persone e poi lo zio oddio i miei studi sono leggermente più grandi vabbè ci sta e ci vivo da solo ma te sto a far comito perché sta andando tutto bene ma dov'è la gente ah quello che lo so chiede pure io eccoli 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 no li sento li sento li sento su dove dove ecco ecco per ping a me perché tutti i venti per inchiore di tripto a me poi un pacchetto meno fu ecco l'intera tutto questo gioco a terra uno eliminato la non c'è gente in mare aspetta mi sparo io ma aspetto curio ma la chiede la voglio favore io l'ultima non è un basti mi sa quei due non so abbatti mi sa no non so abbattere da 105 porti 105 tutte e due raga che c'è chi lo stanno seguendo ma non lo so eccolo 110 1 a 105 a tutti il team ha fatto 155 105 anche 5 1 a marta 8 8 1 aveva quello a un bambino usciuto usciuto che mi servono i colpi cecchino però e credo io tutto grazie ma allora ma poi pieno del uto bello 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 agente anche occhio 22 macchina parola macchia carne e merda una cosa scelta 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 dalla carica fatto uno ma era uno solo da lì più o meno ma io non medaglione ma uno solo ne abbiamo di medaglione sono quelli con medaglione a occhio qua si è occhio macchina macchina da me via del ragazzo e dietro dai non entra manco un corpo nemmeno a pagarlo ok no porto giuro qui c'è morto via tutti i morti no 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 c'è chi no da dritto occhio e cammina stai camminando sto super super raffigurate qua ragazzi incurati io manco tengo il conto dove stanno i miei pignoli al pignoli al sinistra anche ma non era un botto questa ma io non rischiare c'è anche gente 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 niente aspetta aspetta che devo difendere la posizione quando vogliamo tutti 105 occhio occhio c'è stato invidissimile la distrutta era un colpo 11 vabbè pure pure io ho fatto 105 te lo fai tranquillo l'albero dice all'albero 3 dietro ciao uno scudo di vita e a me chi mi dira adesso e c'è ben sbagliate le cose fatte ma non seguitemi ho detto non sono ma poi perché cari lì c'è una storia che giocavo un giochino quando ero piccolina un giochino di merda che non conosce nessuno si chiama invo che adesso è diventato un gioco un po così vabbè e c'è stata una mia amica a cui avevano rubato l'account giocavamo sempre insieme fatto sta gli hanno rubato l'account e lei si è fatta un account fittizio giusto per giocare e si era messo a suo nome e io non lo so perché mi sono innamorata di suo nome e da quel momento in poi lei riprese il suo account da quel momento in poi io su tutti i giochi mi sono chiamata così quindi se incontrate una serie in questi giochi sono io quella è il finale però qualcuno mi taglioni che mi curo sì c'è la tuttia ce ne ho quattro va bene va bene va bene allora qua che roba è qua c'è una bella mitra bella precisa stiamo tutti qua sta un bel cecchino qua bello bello manca quello di scalini come meglio non tutti noi hai detto imbo e ho detto imbo mi vergogno se lo conosci però ho detto imbo 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 come si può descrivere tipo c'è un altro che si chiamava simile che era più famoso a avakin tipo una cosa del genere ava si che ti facevi tipo che ti facevi l'avatar eh sì è un simulatore di secondo mio io lo conosco per forse una svecchata no io ti adoro dopo questo ti adoro comunque c'è di consiglio prenditi manca che il mio ragazzo te ne vede neanche c'è lui ti vuole tantissimo bene lì già tempo in live ma che pisi siamo appena conosciuti siamo e bene gente c'è gente eh c'è gente c'è gente c'è gente c'è gente c'è gente c'è gente marzo 1 morto 1 perfetto 1 verrà la sapete che questa vertita è niente siamo contro 4 dai 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 prima kill c'è prima vittoria del giorno e io avevo chi non sono mai riuscito a giocarci non ci ho capito un cazzo che dici lei mi va bene stanno lì comunque vado a pesciare piano piano oh guarda questi dove si mettono ma io ovviamente non ci voglio credere ma è finita questa mattina ne manca uno ragazzi ultima kill l'ultima chiesa del piccone no non facciamo i coglioni dov'è da tempo ha imparato e migliorato molto ah non lo so dove lo devo cercare il mio inglese però non giravo mai nelle stanze italiane no io invece stavo nelle stanze italiane secondo me sta nascosto tipo qua dentro ho il pacchino da cuore lo sai che le carne e la carne mi sentono oh sta qui si è tutto merito di matteo di solito c'è la metà degli specks andiamo 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 io lo specks 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 nooo no 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 dai eh no 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 dai prima vittoria reale del giorno per te gg 11 kg quanti kg avete fatto? portano uno dai va a 3 credo 3,6 21 kg abbiamo fatto buono eh io solo due ho formato va benissimo no no che va bene no dovevo ucciderli tutti va bene lo stesso ma che tutti dovevo ucciderli dal primo a lui c'è che cavolo ha tirato fuori a raga imbu imbu ma fammi vedere sto gioco che roba è ma schifo adesso è diventato uno schifo proprio quando ero piccolo io ero più carino perché poi ho iniziato a metti tipo vabbè 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 saluto con due o come si scrive imbu ів di non guardare è un punto brutto fai nuovo da pc del sito sì ma non lo scaricava tire e ti devi fare un personaggio ok te lo crei come vuoi tu si ripete la storia e ti andai in giro queste stanze tutti scegli la stanza che non so magari sta la discoteca ci stava il bar per dire una scopa si va che fai scopi virtualmente ma no no mai fatto ma anche su gt rp per il ci ho provato una volta ma assurdo non ce l'ho fatta da te ne gioca diciamo favore sex ragazzi ho risoluto buonanotte c'era il ragazzo che stava ispettare più che io se xrp io se xrp lo fate un paio di volte ma veramente non non l'ho retto era fatto ma veramente fatto sex rp tu ma era petto la era veramente petto la fly e non ce la farei mai zero però tu pensa che c'è veramente gente io ho sentito tanto seppur io voglio quando non sentite seppur io non c'erano neanche ste cose strane c'è adesso tipo tu fai e poi fare anche le cose un po più otto diciamo che si è a suo tempo non c'erano tu pagavi io non ho mai fatto a p non c'erano c'erano il vip e tipo di fa di queste cose ma ci chiedo se ci ritorni calcolato riscarico pure io chissà se esiste ancora il mio account anzi lo cancellano dopo un po boh ci ho buttato una marea di soldi su quel gioco madonna vabbè ma è sempre un gioco cioè rp però cioè non è un social di incontri dove ci sta i personaggi ma io io so che a me piace buttare soldi che hai detto detto gioco d'assestate c'ho guarda non ti dico 112 skin e 241 not cioè non non sto tanto bene io ho speso due metri quando costa molto più di mille euro per le skin solo per le skin questo gioco info no no su fortnite almeno 2 mila euro speso in pochissimi mesi vabbè ma ognuno già i propri vizi le proprie le proprie cose le proprie passioni ma ci sta però un po di macchino e continuo a farlo ma se te lo puoi permette avrei anche sì sì infatti ma come prego esatto però vai ci ripenso che dico porca buttano ha buttato 2 mila euro per contro delle skin e dei bellezza sto sto amico mio quelle brutta sulle macchine sulle macchinette anche la torsione no mai ma nella vita no non ti vuole nessuna squadra al medico c'è tutto che pure le barche ci sta così che una persona solo può permettere secondo me ma c'è già chiesto che se ne erano 297 quindi hanno senso sì però capito con 2 mila euro tanta gente lo sai le cose che ci potrebbe fare cioè io ho compito di skin ogni tanto qualsiasi cosa cioè quante famiglie in difficoltà c'è stanno che con 2 mila euro gli cambierebbero la vita vabbè ma se te non stai in difficoltà che te frega cioè no non sto in difficoltà però ci ripenso capito c'è che da un valore ai soldi sì sì quello sì però se te lo puoi permettere non ti senti in curva ma sto imbo quindi separa sto imbo perché ho visto accedi a pagamento c'è scritto tranquilla chissà chissà è un amico tuo io pure sto così con gli amici tuoi con gli amici mi ha dicevi ma te scusa no non dovrebbe essere a pagamento però non mi hai chiesto che lavoro fai che lavoro fai in questo momento non faccio niente di niente ah zero sto a casa se sto in disoccupazione come mai mi sono licenziata perché non mi trovavo più bene mi sono licenziata cioè non è che non ho tutto sto bisogno capito di lavorare fortunatamente un tetto sopra ce l'ho mamma mi aiuta papà pure no che ti dispiace mi sono licenziata io perché non mi trovavo eh lo so mi dispiace che stanno trasformare eh sì vabbè la gente è cattiva ma proprio in ambito lavorativo la gente è così eh no mamma mia no ma l'abbè sì a Napoli ma fu due la rovina però ci sono io che sono veramente fortunato che faccio lo streamer del lavoro quindi sarebbe bella mi metto un po mi metto un po l'ansia a pensarlo come lo fai un po l'ansia a pensare no niente però vatti tutti bianchi manco uno me ne è rimasto mio ho fatto io c'è se vuoi chiedere a Matteo se mi vuoi fare qualche partita a Ayrton a te chiedono se vuoi giocare a Ayrton non so se andate adesso o dopo si si faccio questa poi vado e qui sta io non c'ho mai capito un cazzo su Ayrton ma nemmeno io proprio zero proprio no ti ho detto giocavo a League of Legends ma Ayrton non è che sto differente ora ti vedi e ti senti sto che magari è stato? guarda ci un po' si ammazzava ma è stato benissimo eh Marvel ho provato a capirci qualcosa ieri lecce che vedo un cazzo si sono stati lì a guarda ma porca puttana veramente sta lì faccio pure il mirino gru di niente oh 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 ma che cazzo fa questo è pazzo non c'è più tranquillo non c'è più bravo ma quello non è morto ma è stato morto ma è stato morto ma è stato morto ma è stato morto ancora non c'è una R comunque credibile nel cassino vabbè perché con cui sono poche loro possiamo però vediamo la bomba me la prendo hanno fatto non hanno fatto il medaglione venite raga ci giocavo e poi faccia su in gioco ma come se lo stava a prendere il culo te lo dico io questo qua è uno sniper sicuro è uno snagato no è venuto solo per un cazzo a me ma se ti diverti così per me non è problema più avanti magari ragà ma non mi vado dall'istra mi spiace ma poi che ci fanno dell'instagram cioè hai dei sezioni più vincitivi di conquistare i cazzi tuoi quello l'ho capito ma poi non è che sono nativa molto social eh raga meglio che punti hai per... l'ho detto che non conoscevo... cioè fino a due mesi fa non conoscevo manco l'esprimente che punti hai per poter più possibilità di vincere questo l'ho capito ehi dai sta qua verso qua è uno sniper sicuro dove sta? dove sta questo? sì 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 mentre stavo scendendo dai dove sta? dove sta questo? ma c'è il cerchino è fortissimo dov'è? ma chiedete voi che sparate? eccolo eccolo lì! eccolo eccolo bastardo! 40? 40? vai 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 è forte è occhio no no il fatto è che sta facendo l'arrattato morto morto! morto! ma coglione questo dove me lo prendo io scoppiato è andato proprio sto coglione si comunque è stata gioca in singolo il coglione quindi è stata smuffa allora te lo detto ho sbagliato io forse? no io 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 l'ho messo va be io volevo fare il medaglione andiamo andiamo così mi modifico massimo le armi questo cecchino e questo mirino non lo so so vabè se vuoi me lo dai me io me lo prendo molto volentieri no il cecchino lo voglio non voglio il mirino va bene dai prendete il checchino allora oh mio dio oh tiè oh mi sono oh guarda ci sono pure i slayer mortacci ma stavano nascosti e stanno a snappare dalla te comunque o sei una brava attrice guarda un po e venite qua mi ammazzate fate su in giù vai sto sotto il bagno sto sto sui bagni aspetta no sto qua dentro il bagno vieni vieni venite venite sto sui bagni vieni aspetta aspetta no mi sensi qui mi sensi qui vieni qua sto qua dentro vieni vieni sto qua vieni dentro il bagno 3 2 1 metti il pompa in mano non c'è il pompa ma che c'è un gatto mi traietto in mano che sai che fai le bombe ti fai danno anche due ma te ma te ti fai danno da solo vabbè al massimo fa una roba no così muori vai vai metri 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 ragazzi erano snappi sapevano dove era si si ah ah sto sotto piano terra piano terra sto sotto piano terra sto qua sotto sotto sto sotto piano terra piano terra sotto ancora più sotto più sotto piano terra venite qua no e dai venite qua piano terra piano terra sto qua vieni vieni sto piano terra piano terra sto piano terra qua sotto qua stai vicino acqua acqua fuoco fuoco sto qua fuoco fuoco dentro dentro devi entrare dentro il bagno oh ma non vengono eh ma è da lì hanno capito la tua tattina ma è te ah 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 ma stanno a cercano non capito no stanno aprir il cavo allora io ti sentito stanno sotto che paura che paura si è fatto tutti questo no a me mi ha fatto uno con la schiena nera troppo forti vabbè c'è lì io te ringrazio non muori mio ma grazie a te va bene quindi niente ci sentiamo grazie mille di tutto ma grazie a te mi faccio il tuo partito e poi vengo nella tua live vai addirittura eh certo per me è un onore dai ciao un bacione carino